Sto parlando di situazioni che possono considerarsi paranoiche o alienanti, vissute ai confini della realtà, che per quanto perplessità possano destare, come tutto nella vita, hanno diritto ad avere una propria collocazione nell'ambito dell'uscibile. Tutto diventa all'improvviso inverosimile. Io perdo completamente il senso della realtà e vado lontano alla ricerca di quelle emozioni e sensazioni che ho provato in un'altra condizione. Quando percepisco che sono in contatto spirituale con un'altra anima, è come se si risvegliasse in me tutto il vissuto che mi ha legata a quella persona. Affiorano i ricordi che, ad una prima impressione, possono sembrare il frutto di reminiscenze culturali, ma poi, piano piano, queste immagini prendono corpo e diventano sempre più presenti nella mia vita. Com'è possibile che avvenga tutto ciò? Grazie. Grazie.